Ciao a tutti da Carni di Recensionologi.it Andiamo oggi a conoscere il Maris Lacroix Icon Venturer da 38 mm Cassa realizzata interamente in acciaio con finiture alternate lucide e satinate Bracciale integrato con maglie a 5 file e chiusura de play-an L'orologio è anche disponibile con cinturino in gomma facile da intercambiare grazie al sistema Easy Link Ve lo mostro Cinturino in gomma di ottima fattura con chiusura ad ardiglione Con il cinturino in gomma l'orologio ovviamente risulta essere più sportivo Ma a me piace con i bracciali in acciaio Cassa da 38 mm con altezza di 11.8 mm Corona a vite con delle protezioni avvitate che garantiscono un certo peso Visto le dimensioni ridotte rispetto all'iPhone da 43 mm Ghiera unidirezionale con i classici artigli con inserto in ceramica del colore del quadrante Vi mostro la luminosità Davvero eccezionale Movimento automatico ML-115 realizzata su base sellita SV200 Con 38 ore di riserva di ricarica Il prezzo parte da 2200 euro con cinturino in gomma 2300 euro con bracciale in acciaio E 2500 euro con entrambi i cinturini E voi? Cosa ne pensate?